Hai realizzato il gol Scudetto, una vittoria importantissima di firma da tutti. No, ancora no. Penso che ancora mancano due o tre partite che dobbiamo vincere per cercare il Scudetto, ma oggi abbiamo vinto una partita troppo importante e sono felice. No, non sono vera, non sono vera. Io sono tranquillo e questa tranquillità la porto dentro del campo pensando solamente alla Juve e non al mio futuro. Io non ho deciso nulla e penso continuare, come ha detto il direttore, no? Sì, come ha detto. Mercoledì a Monaco. Vestiamo che sia una grande Juve, no? Necesitiamo una grande Juve per vincere la partita. Grazie, grazie.